Sulla regione la presenza di una depressione che interessa comunque gran parte dell'Italia porterà fino a sabato sera copertura nuvolosa. Un flusso di correnti da sud-est più umide in quota determinerà infatti cielo coperto per la giornata di sabato sulla regione, appena delle schiarite forse sulla costa nel pomeriggio e saranno ancora possibili delle piogge sparse in genere di debole intensità moderate sulle zone occidentali in provincia di Pordenone e sulle prealpi carniche. Le temperature subiranno una lieve flessione con valori massimi intorno a 15-16 gradi sulla pianura e sulla costa e sarà ancora presente un po' di borino soprattutto al mattino. La perturbazione e le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio e in serata. Per domenica è previsto un deciso miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura a costa, forse un po' di nuvolosità residua al mattino sulla zona orientale, un po' di nubi al pomeriggio sulle prealpi, quindi un po' di variabilità. Temperature in ripresa, le massime domeniche intorno ai 21 gradi sulla pianura, intorno ai 18 sulla costa. L'inizio della prossima settimana sembra ancora essere caratterizzato da tempo stabile e temperature in miti.